Presidente, un'iniziativa che ha avuto successo soprattutto perché ha trattato dei temi profondi con degli esperti di un certo livello e che comunque fanno bene non alla scuola in particolare, cioè alla vostra, ma anche ad altre scuole e alla gente che nella scuola vuole vedere dei contributi di un certo livello. Sì, sì, assolutamente. Questo qui è un evento che è stato pensato per tutto il sistema scolastico nazionale, non solo per la scuola Spallanzani o per le poche scuole, sette peraltro, che non sono neanche così poche, che hanno partecipato all'evento. Siamo convinti di offrire, insieme all'Università di Bologna, che è l'ente che ha organizzato il convegno, un servizio interessante per tutte le scuole, molto interessante. Un excursus in mezzo ai temi primari che ha portato anche il contributo da parte dei partecipanti? Beh, senza dubbio è emerso con chiarezza il tema della personalizzazione dell'insegnamento, che è un tema non per tutti, ma che per molti è abbastanza innovativo e che richiede un'attenzione al singolo ragazzo. Non quindi una scuola che vuole far piegare a sé i ragazzi, ma una scuola invece che si piega sull'esistenza dei ragazzi. Questo è stato uno dei risultati. L'importanza è che questo messaggio parta da una scuola parificata come la vostra. Sì, la nostra è una scuola paritaria. Noi semplicemente vogliamo che sia chiaro quindi che la scuola paritaria e la scuola pubblica sono la stessa cosa, sono due entità del sistema scolastico nazionale e quindi non vediamo differenze da questo punto di vista. I risultati che praticamente state raccogliendo in queste ultime ore di convegno sono anche passibili di riflessioni e di nuovi eventuali incontri o convegni? Sì, come abbiamo detto già dall'inizio, questo per noi vuole essere solo l'inizio di un lavoro. L'Università di Bologna ci ha coinvolto in questo lavoro, iniziando ad analizzare quello che succede nelle scuole, partendo dalla nostra e poi allargandosi ad altre scuole. Però vuole solo essere l'inizio di un lavoro collaborativo, finalmente, che metterete tutte le scuole. Giorgia, parte dall'Università di Bologna un'idea di analisi della scuola e dei suoi, chiamiamoli, ancora problemi? Sì, diciamo che c'è stato l'incontro tra il desiderio di una scuola specifica, la scuola Spallanzani, di sottoporre a verifica la sua esperienza di 40 anni e il suo progetto formativo, ma anche le pratiche che venivano messe in atto dentro alla scuola. Questa esigenza si è incontrata con l'esigenza dell'Università, soprattutto parlo delle aree umanistiche nel mio caso, che forma i futuri insegnanti e noi formiamo quelli della scuola secondaria, perché i nostri studenti sono di Lettere, Filosofia, Storia, Dams, forma gli studenti della scuola secondaria e allora proprio per questo, secondo me, c'è già il perché di un intreccio, una ricerca del mondo della scuola e anche della nostra sorpresa quando una scuola ci ha letteralmente aperto le proprie porte, cose a non scontata. Perché? Come faccio a formare un futuro docente se io la scuola non la vedo, non la ricordo, se l'ultima scuola che ho visto è stata quando mi sono diplomato, io ricercatore, io formatore. Quindi per noi è stata un'occasione preziosa per entrare appunto in quella che è la quotidianità della scuola e incontrare chi, dal punto di vista della ricerca, è una componente essenziale della scuola. Il tema della personalizzazione che certamente in primo luogo riguarda la dinamica della didattica, però per me si può applicare anche ai docenti, perché noi abbiamo incontrato, come recita il titolo del convegno conclusivo, scuole che educano e che educano perché sono piene di insegnanti creativi, cioè di insegnanti che, mossi da una preoccupazione educativa nei confronti di ciascun singolo studente che si trovano davanti ogni giorno, dalle realtà più complesse a quelle più apparentemente semplici, nelle statali, nelle paritarie, e mossi dal bisogno di intercettare, di incontrare questi studenti, diventano creativi per una preoccupazione educativa e fanno squadra. Altra cosa, i risultati di questa esperienza possono creare un format da portare in giro nelle altre scuole? Oddio, sì, un format? Non lo so. Certamente, secondo me, questo è l'inizio di un lavoro, ma è un inizio di un lavoro che è stato riconosciuto come tale da tutti, perché io credo che uno dei frutti più belli di questo convegno e anche della ricerca, prima ancora sia stato il fatto di mettere a rete il mondo della scuola e il mondo delle università, ma anche diverse scuole tra loro. Una rete che io in questi due giorni ho visto nelle sessioni parallele di giovedì pomeriggio con docenti appunto di diverse realtà scolastiche che si sono riuniti per relazionare e confrontarsi su alcuni temi che erano emersi dalla ricerca. O adesso, oggi nella tavola rotonda, dei dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, in cui sempre più si scopre con sorpresa, ma anche con piacevole sorpresa, una straordinaria consonanza di intenti, di esigenze, di preoccupazioni e un desiderio di collaborazione che continui tra queste reti a più livelli, tra le scuole, tra le scuole e le università. Quindi, certamente, il desiderio è, pensando dal nostro punto di vista alla formazione dei docenti e pensando alle scuole che hanno questa preoccupazione educativa che le costituisce nella loro missione, nella loro esistenza, il desiderio è quello di poter proseguire un cammino insieme in questo senso, certamente.